buonasera tanto aspetto che arriviate il po vai giù vedo che c'è già qualcuno dovete scusarmi perché ho tosse raffreddore perciò da ipo perciò tossirò sono capace di soffiarmi il naso ipo che continua a venire di qua buonasera a tutti aspettiamo un attimo che arrivi un po di gente spero stiate bene non riesco a vedere i commenti dai ipo stai giù stai giù c'ho il gatto che continua come solito non riesco a leggere i commenti perché se mi fate delle domande poi dopo non riesco a leggerle stavo cercando eccovi qua adesso vi vedo ciao a tutti è un po' che non ci vediamo su focus scusate la voce ma un po' di raffreddore sono andata in sicilia la settimana scorsa quando viaggio in aereo l'aria condizionata è sempre così tutto normale allora volevo parlare sempre del mio argomento poi se avete ciao Enrico ciao Teresa ciao Grazia se avete poi delle domande me le potete scrivere e rispondo ci tenevo ringrazio Enrico e Anna per questa diretta ci tenevo proprio a parlare di come avvengono ciao Maria Rita ciao Rita una mia amica ci tenevo un po' a parlare di questi contatti di questo modo di comunicare con loro di avere dei messaggi e di specificare bene che significato ha per me perché a volte mi capita di avere delle persone a cui forse è stato spiegato male il motivo per cui si si comunica con loro per il motivo in cui per cui si fa il contatto per cui si vuole ricevere un messaggio allora per me è sempre stato non so se mi vedete centrata bene vabbè che io centrata non lo sono mai ma spero che mi vediate bene per me il contatto è fatto di molto rispetto sia nei confronti della persona che ho davanti ciao Cristiana sia nella persona che è di là perché per me sono persone non sono nemmeno anime sono persone come noi sono talmente vive sono talmente perfette che per me sono persone hanno bisogno di un grande rispetto mi è capitato a volte che arrivassero persone con un foglio scritto scusate ma ce l'ho con un foglio scritto e con delle domande da poter ciao Angela ciao da poter chiedere delle cose in realtà non funziona così loro rispondono rispondono sicuramente al nostro pensiero perciò quando io dico non c'è bisogno di fare a me una domanda non ho bisogno di saperla io io con meno so con più e meglio nel contatto perché ho delle prove anch'io su questo di conseguenza di conseguenza di conseguenza loro leggono nella nostra mente sanno quello che vogliamo sanno quello che pensiamo di conseguenza leggono e se possono durante il messaggio loro rispondono io vado diretta chi ha fatto il contatto con me sa che io parlo mi mi distacco un attimo ma non è che vado in trans non è una cosa difficile per me per me è una cosa normale sono sempre collegata con loro perciò non faccio nessuna ciao Anna Maria non faccio nessuna fatica e arriva un discorso diretto a volte sono a volte sono molto chiari subito a volte lo sono un po' meno però tutto quello che dicono alla fine arriva nel tempo e ripeto chi ha fatto il contatto con me poi ve lo può confermare ci vuole molto rispetto nel comunicare con loro io dico sempre e ho imparato negli anni a non farmi troppe domande accolgo sempre con grande ringraziamento con grande contentezza sono proprio contenta quando dicevo messaggi anche se non sono miei personali o che qualche anima mi viene a trovare che non so chi è perché poi alla fine non è che conosco tutti però il fatto di avere qualcuno di fianco a me che mi sta vicino che si interessa al momento che sto passando o che vuole farsi sentire vuole fare due chiacchiere mi sembrerà strano come parlo perché sembra che parli con un amico ma in realtà per me è così io i miei i miei genitori li sento molto poco non ne ho bisogno di sentire si arrivano li saluto io al mattino ho l'abitudine di bere il caffè con loro di parlare di salutarli però molte volte mi arrivano anime che non che non conosco di conseguenza non mi interessa mi va bene perché il minimo contatto con l'altro mondo è importante perciò diamo importanza a tutte le anime che sono di là allo stesso modo la ringraziamo sempre perché è una comunicazione ed è un momento di grande pulizia di grande apertura nei confronti nostri cioè ci aiutano proprio a poter comunicare quando il contatto avviene me lo dicono tutti che ti sembra proprio di avere la persona lì vicino di si loro parlano attraverso la mia voce ma sembra che la comunicazione sia proprio sia proprio tua perciò tu sei lì ascolti la mia voce ma sai che c'è qualcuno lì da parte lo senti e si crea un collegamento diventa proprio un collegamento perciò ringraziare sempre per la minima parola che ci viene regalata da loro non lo so aspetta che chiedo una cosa a Enrico o a Lanna vedo solo le persone che partecipano però se qualcuno scrive una domanda non la vedo è normale perché se qualcuno ha delle domande mi piaceva anche rispondere non so se è normale questo sistema che di solito vedo le domande o il saluto vedo solo chi chi sta partecipando e stavo dicendo che è bellissimo avere un messaggio di qualcuno anche se non sappiamo chi è perciò qualsiasi presenza mai chiediamoci ma io voglio sapere chi è ringraziate bisogna sempre ringraziare perché qualsiasi anima possa arrivare vicino a noi è perché ci sta vicino perché ci fa la guida perché ci protegge di conseguenza è importante poi è normale che noi abbiamo il bisogno di poter comunicare con chi abbiamo amato con chi abbiamo conosciuto è normalissimo cioè una mamma che ha un figlio di là è normale che voglia parlare col figlio un figlio che ha un genitore non c'è differenza tra tra le persone che perdiamo non dobbiamo mai calcolare il dolore di uno dell'altro non dobbiamo mai calcolarlo ognuno sente il suo qualsiasi persona abbiamo perso ha un'importanza per noi perché c'è un percorso di vita dietro c'è un percorso di ricordo c'è un percorso di affetto ci sono scusatemi ma poi a parlare mi viene ancora di più di conseguenza ciao Franca di conseguenza è importante che qualsiasi anima dall'altra parte per noi sia importante io ci tengo tanto a dire queste cose perché ne sento veramente tante in giro sento delle chiacchiere che per me sono inutili e non riesco a capire come si faccia non capire che ogni parola loro ogni atteggiamento nei nostri confronti nei nostri confronti ogni momento che trascorrano con noi che sia un secondo che sia un minuto non venga preso nel modo giusto a volte si trasforma in rabbia perché non si ha il contatto con la persona che vogliamo allora io devo dire che sono molto fortunata perché in realtà io di solito quando faccio il contatto di solito arriva sempre la persona che si desidera a volte arriva qualcun altro però porta il messaggio di di chi si vuole sentire perciò per dire se io voglio sentire se una signora viene e vuole sentire la mamma può essere che si presenti il papà o la nonna però si fa riconoscere riporta il messaggio sempre della mamma di chi si vuole sentire poi alla fine perciò ci sono tante cose in un messaggio io nel corso degli anni ho sempre chiesto delle prove nei miei confronti ho sempre chiesto delle conferme perché quando si è all'inizio quando si cominciano a sentire quando io ero una ragazzina mettevo molto in dubbio quello che sentivo pensavo fosse la mia mente nonostante io comunque abbia sempre visto che avevo davanti e ho avuto la fortuna sia di vedere che di sentire perciò però ho sempre avuto dei dubbi perché poi il pensiero ti arriva prima alla mente no? è come se una voce ti parlasse dentro la testa e nel tempo mi hanno dato dei grandi cambiamenti perché prima ci mettevo tanto tempo ho fatto metafonia ho fatto scrittura riferivo così quando mi arrivavano invece poi nel tempo hanno cominciato a darmi dei messaggi più precisi mi arrivavano più velocemente adesso sono tre anni che i messaggi mi arrivano in velocissimi di conseguenza mi hanno dato la conferma che non sono io che penso perché io non potrei pensare in un modo così veloce parlare con un linguaggio che oltretutto non è il mio perché usano delle parole o dei un linguaggio che non è assolutamente il mio di conseguenza questa è una prova nei miei confronti sono prove che io chiedo su me stessa perché io mi ritrovo davanti a delle persone che soffrono a delle persone che non vogliono essere presi in giro a delle persone che hanno bisogno di una parola e una prova che loro ci sono a volte è meglio non chiedere neanche più di tanto dire voglio sentirlo perché voglio sapere se sta bene e arriva di tutto in conseguenza le prove arrivano i messaggi vanno oltre perché non è detto che solo riascoltandolo subito o riascoltandolo il giorno dopo perché io sto comunque io faccio registrare il messaggio e qualcuno mi ha detto ma non devi farlo registrare perché non va bene se uno lo fa sentire non c'è niente di male anzi il messaggio va ascoltato va ascoltato anche se lo vuoi fare ascoltare il messaggio è il tuo lo puoi fare ascoltare chi vuoi ed è importante tenerlo non c'è niente di male a riferire quello che dicono loro anzi è una cosa molto importante tenerlo anche perché riascoltandolo nel tempo poi tu ti ritrovi che hai tante prove tante conferme che comunque quello che ti hanno detto è la verità è quello che vuoi sentirti dire poi alla fine ed è meraviglioso io credo che sia una cosa meravigliosa perciò credo che l'umiltà e mettersi sempre alla prova e non prendere in giro le persone che hai davanti sia la cosa più importante sia quello che sia quello che loro chiedono di conseguenza è importante portargli il rispetto io ho molto rispetto per questo mondo ho la fortuna di non stancarmi mai perché mi danno scusate devo bere perché faccio veramente fatica è importante non mi ricordo più cosa stavo dicendo vabbè riprendo io ringrazio sempre mi danno l'energia necessaria cosa stavo dicendo che non mi stanco mai io anche quando viaggio mi chiamano un po' ovunque quando vado faccio tantissimi contatti in un giorno è vero che il tempo che dai a ogni persona è poco però il mio pensiero e quello che mi dicono loro non è che do poco tempo che comunque ho la possibilità di dare il messaggio a tante persone perché tanti hanno bisogno in conseguenza si gira un po' la situazione poi quando ricevo a casa è normale che ci sia un po' più tempo per ognuno si fanno due chiacchiere anche in più quando vado via che ho tanti appuntamenti è normale che faccio tante persone però ognuno di loro ha un messaggio per sé perciò è un pizzico di serenità che si hanno e lo puoi fare a tanti e non mi stanco stavo dicendo perché mi danno l'energia necessaria me l'hanno sempre detto che mi davano l'energia che mi serviva infatti mi stanco a viaggiare ma non a fare i contatti vi ringrazio perché siete veramente in tanti scusate ma tu sei l'affreddore non so cosa farci ciao Jessica ciao Rosanna perciò è importante in primis avere rispetto è vero che quando si soffre quando si è perso che è la parola che usiamo sempre noi invece non dovremmo mai usarla perché non li perdiamo anzi li riacquistiamo in un modo veramente eh forte li abbiamo veramente vicino e scusate ma se parlo tossisco eh sono molto materiali di conseguenza i messaggi che che ci portano ci danno una serenità infinita danno proprio serenità sono continuamente con noi dobbiamo sempre ringraziarli per ogni cosa che ci dicono è molto importante e volevo stavo dicendo anche un'altra cosa adesso mi viene in mente stavo dicendo che mi stancano i viaggi non mi stancano i contatti mi hanno sempre detto che mi avrebbero dato l'energia indispensabile ed è secondo me molto importante non dire mai io so non sappiamo mai niente non abbiamo mai finito di imparare da loro ogni giorno è una sorpresa ogni giorno è un un qualcosa in più che ci arriva ci danno la serenità ci fanno capire come funziona questa vita ci danno modo di dire che non li abbiamo persi ma che li abbiamo recuperati dobbiamo imparare a vivere con loro in un modo diverso dobbiamo imparare a vivere con loro vedendoli in un modo diverso ma ascoltandoli perché se ascoltate credetemi ci sono delle cose straordinarie che fanno sono materiali sono allegri piangono con noi piangono nel senso che partecipano a quello che facciamo loro non piangono per fortuna di là non c'è la sofferenza che abbiamo sulla terra la terra per noi è una grande prova perciò è questa scuola che dobbiamo superare mi ricordo e mi ricordo anni fa che ero molto arrabbiata quando ero ragazza e una volta parlai con mio padre e gli dissi ma sono stanca ha detto perché devo continuare a stare così male e me ne devono capitare così tante lui mi ha risposto che dovevo essere grata di questo che ero una prediletta io questa parola me la ricorderò per sempre dice ma come una prediletta per soffrire e lui mi ha detto guarda che la la tua crescita il tuo insegnamento è dovuto alla sofferenza non alla felicità quando noi abbiamo tutto non ci rendiamo conto di quali di quali sono le cose importanti quando abbiamo tutti siamo contenti non ce ne frega niente di niente perché non capiamo come si fa a guadagnarsi una cosa che valore ha la persona che abbiamo al nostro fianco è come è come è il vero valore della vita e ha ragione e aveva ragione quando mi ha risposto così mi ha fatto pensare questa cosa ci ho messo molto tempo a capirla perché non è stato facile perché dico io mi merito anche di stare bene no? ma mi merito di star bene quando io vorrò stare bene perché poi la vita dipende da noi il nostro destino si è segnato però il famoso libero arbitro esiste siamo noi che dobbiamo cercare di portare la felicità a noi stessi se io comincio se continuo ad essere arrabbiata perché il lavoro mi stanca e perché quella mia amica lì non mi ha telefonato ma se non mi ha telefonato potevo telefonare io no? siamo sempre pronti a dare la colpa agli altri a volte siamo noi che ci allontaniamo dalle persone pretendiamo che gli altri ci corrano dietro in realtà non è così se una ho voglia di sentire una mia amica e aspetto che lei mi chiami faccio un esempio banale non devo aspettare che lei mi chiami ho voglia di sentire appena il telefono la chiamo lei può pensare la stessa cosa perché non mi chiama c'era con me a volte creiamo del del degli squilibri tra di noi che sono inutili che sono veramente inutili creano solo disagio perché se una cosa deve finire se una cosa si deve interrompere si interrompe non dobbiamo per forza noi cercare di impedire che si interrompa o di interrompere prima del tempo non dare importanza al materiale io l'ho detto tante volte perché io questi problemi li ho avuti per tanto tempo anche adesso ce li ho però ce li ho molto meno perché ho meno importanza questa cosa cioè arrivare arriva la bolletta non si può pagare va bene la tengo lì poi mi arriveranno i soldi per pagarla e mi arrivano se io comincio a dire oddio come faccio e stanotte non dormo perché adesso come faccio devo pagare la bolletta non riuscirete a pagarla perché la mente ha un grande potere la nostra mente ha un grandissimo potere abbiamo una potenzialità in mano che è incredibile perciò di conseguenza cerchiamo di stare tranquilli cerchiamo di ragionare come loro loro vanno ciao siaga ciao Anna loro vanno loro vanno non hanno il tempo non hanno lo spazio vivono di pace di amore di serenità noi dobbiamo fare la stessa cosa non diamo importanza a tutto quello che è materiale ci serve perché nella vita il materiale ci serve ma quando andiamo di là ci portiamo l'insegnamento abbiamo il bagaglio dell'anima non abbiamo la casa non abbiamo la macchina non abbiamo nulla di quello che abbiamo creato in terra che se sicuramente abbiamo la missione di poter vivere serenamente anche a livello materiale ma dando l'importanza che serve a tutto il materiale diamo importanza all'amica che ha bisogno di una parola al alzarci al mattino e alzarci con un sorriso dover proprio sorridere appena ci alziamo io da tanto tempo non vedo l'ora di alzarmi al mattino dormo pochissimo perché perché non vedo l'ora di alzarmi e di fare delle cose io una cosa che ho sempre un po' avuto questa anche quando lavoravo alla casa di riposo trovavo sempre ero un lavoro pesantissimo a contatto con il dolore a contatto con delle difficoltà delle persone anziane che piangevano tutto il giorno perché erano abbandonate in queste case di riposo però io trovavo sempre il modo di andare a lavorare contenta perché trovavo le mie colleghe potevamo fermarci a bere il caffè e le sigarette insieme perciò tutta la giornata si raggruppava in questi piccoli momenti che mi facevano sopportare tutto quello che avrei dovuto vedere nelle otto ore che mi potevano far star male e tutto cambia perciò ogni cosa va vista in questo modo come loro come loro ci insegnano perché loro ci insegnano questo sorridi al mattino ti alzi oggi devo fare tante cose poi abbiamo la mattina che mi ha voglia di stare a letto cioè non è quello però proprio l'atteggiamento nei confronti della vita chi è che non ha dei dolori in vita nessuno tutti ce li abbiamo siamo qui apposta siamo qui per superare delle prove e per portare a noi la conoscenza di come superarle ed è quello che ci allarga il cuore è quello che ci fa crescere è quello che c'è no non riesco meno solo chi partecipa io volevo sentire delle domande ma non le vedo non ci riesco piaceva anche fare degli scambi di idee vabbè lo faremo un'altra volta ma vedo solo che che arrivano le persone che che partecipano e basta vabbè lo stesso vado avanti a parlare è ampio il discorso ci sono tante tanti argomenti e tante cose da dire su queste su questo argomento loro hanno sempre tanto da dire poi c'è la cosa principale è quella poter affrontare la giornata con un sorriso poi si piange io piango sempre cioè io lo dico sempre io non è che non piango piango in un modo diverso non esiste più la disperazione per me è vero che voi dite facile perché tu li vedi tu li senti ma è facile per tutti perché anche chi non riesce a sentirli o vederli quando ti arrivano vicino tu la sensazione ce l'hai li possiamo sentire tutti poi non tutti possono trasferire i messaggi non tutti possono avere una comunicazione perfetta come ho io adesso cioè io ho una comunicazione perfetta con loro scusate ma parlare faccio molta fatica perché se non parlo non tossisco se parlo tossisco vabbè è normale di conseguenza basta ascoltare senza fissarsi troppo però parlare con loro imparate a parlare con loro come se fosse una comunicazione visiva con una mica con un amico con un parente che amiamo che vogliamo tenerci vicino non li disturbiamo anzi loro cercano la comunicazione con noi loro vogliono comunicare con noi vogliono che noi siamo propensi nei loro confronti che chiediamo a volte le risposte non arrivano immediatamente non possono condizionarci la vita non possono dirci quello che dobbiamo fare o il risultato di quello che abbiamo in mente di fare non dovremmo neanche pensare al risultato facciamo le cose con amore sempre e portandole avanti senza pensare cosa sarà una cosa che voglio fare cui tengo cerco di farla nel modo migliore possibile con la serenità assoluta che posso avere e tutto arriva le risposte vi arrivano immediate vi arrivano in un modo molto semplice in un modo molto carino sempre perciò per me è stato così con me l'ho chiesto con più ho avuto cioè alla fine è così mi sono affidata affidarsi a loro è veramente straordinario è veramente importante ci amano tantissimo ci amano ci stanno vicino ci guidano si fanno sentire quando mi dicono ma sai ci sono le case infestate ci sono guardate non è vero tutte le case sono infestate tutti loro sono dappertutto poi che tornino in una casa dove hanno vissuto per tanti anni sicuramente anche se non mi torno più però non sono anni che danno fastidio quest'estate in agosto scusate mi soffre il naso ma dovete perdonarmi ma è un raffreddore non so cosa farci quest'estate ad agosto sono andata mi ha chiamato un regista per andare a girare un reality nei castelli perciò nei castelli pensate cosa a cosa è successo quante uccisioni quante cose brutte cattive che sono successe è stata un'esperienza straordinaria per me perché sono comunque anime buone ti raccontano quello che io ho fatto una ripresa di tre ore e mezzo ero stravolta la sera perché non è neanche il mio sistema io sono abituata a parlare con le persone che arrivano da me che hanno avuto dei dolori che cercano la persona che è dall'altra parte perciò è stato un sistema molto diverso da come uso io perciò mi sono stancata molto e siamo andati nei sotterrani hanno dato delle indicazioni precisissime hanno raccontato quello che hanno fatto e quello che è successo ma io non ho avuto la sensazione che fossero anime maledette per tutto il male che hanno fatto con questo non vuol dire che noi in vita dobbiamo fare del male perché tanto di là siamo perdonati no perché ci serve e poi passeremo quello che abbiamo fatto perciò cerchiamo di fare il meglio possibile nella vita terrena per dirvi che queste anime sì sicuramente saranno nel castello ma non sono anime che danno fastidio che hanno delle cattivere addirittura feci l'intervista sopra in una stanza sopra e seduto seduto vicino a me mi scappava anche da ridere perché sembrava proprio una cosa strana c'era questo cardinale e che ascoltava quello che dicevamo stava proprio di tranquillo e ascoltava poi hanno dato delle cose molto precise hanno dato delle date quello che hanno fatto mi hanno fatto vedere dei posti dove erano successe delle cose perciò io non ho avuto paura non sono andata perché so che non sono comunque anime cattive indipendentemente da tutto quello che hanno fatto poi mi hanno detto che avrebbero scontato hanno capito tutto quello che hanno fatto hanno capito il male hanno capito che non dovevano essere così però il percorso è comunque quello cioè non c'è stato niente da fare e questo secondo me è molto importante perché molta gente ha timore di questo argomento ha timore di queste cose non abbiatele paura dobbiamo avere paura dei vivi non di chi è dall'altra parte perciò cerchiamo di comunicare di portare rispetto di di avere sempre eh questo affiattamento questo bisogno perché credetemi il nostro bisogno e anche il loro bisogno loro il fatto di poterci dare un po' di serenità o di dire guarda che non ti ho mai lasciato sono qui sono accanto a te ciao Michi sono la mamma di quel bel ragazzo là ti ricordi la mia amica e perciò è proprio il bisogno di comunicare con noi di poterci dire sto bene cerca di andare avanti non mi hai perso ci ritroveremo ci ritroveremo un giorno ci racconteremo tante cose ci racconteremo il significato di questo nostro percorso di vita ed è molto importante questo perché ci aiuta a stare sereni ci aiuta io non è che non sento la mancanza fisica di mia mamma di mio papà è diverso perché io l'ho vissuto come posso dire quando era di là l'ho vissuto in modo fisico per tanti anni perciò io non ho sentito questo distacco che può avere una bambina quando il papà gli muore perciò l'ho sentito più con mia mamma l'ho sentito non di più l'ho sentito in un modo diverso perché avrei voluto più tempo con lei avrei voluto dirgli tante cose che non gli ho detto avrei voluto fare tante cose con lei non ne ho avuto la possibilità perché mi è andata via e che dovevamo vederci perciò mi è stata una doccia fredda e ho sofferto tantissimo proprio per questo distacco ma adesso parliamo adesso ce l'ho adesso mi dice che sta bene che non soffre più ho capito tante cose che gli sono successe nella vita che io non avevo capito prima perché io ragionavo come un essere umano ragionavo una figlia che aveva bisogno della mamma non potevo capire il suo la sua visione la visione di una donna che è di una mamma ma che è anche donna che è figlia che ha avuto dei problemi che ha avuto tante sofferenze perciò vedevo le cose solo dal mio punto di vista e lei mi dice non ci pensare non farti sensi di colpa perché dice io devo continuare a fare il mio percorso da questa parte perciò cerchiamo ognuno di fare il suo perciò nessun senso di colpa proprio per farmi andare avanti nel modo giusto anche da questa parte perché comunque anche là si hanno dei grandi percorsi delle evoluzioni si hanno dei grandi insegnamenti si hanno tantissime cose pensate che quando dormite quando dormite molti non ricordano i sogni ma quando arrivano il sogno è perché hanno un contatto diretto con noi il sogno è meraviglioso perché ci alziamo al mattino e abbiamo avuto l'incontro con loro e ci sentiamo proprio abbracciati da qualcuno che da tanto tempo non abbiamo più vicino che non vediamo più ed è una sensazione meravigliosa è una sensazione straordinaria perché sappiamo che sono lì quando vi svegliate alle tre tre e mezza alle quattro di mattina è perché qualcuno vi ha svegliato avete una sensazione strana e dite non so perché vi sono svegliata ed è proprio un incontro con loro è straordinaria questa cosa pensate come sono materiali non so se vedete vedete quel sole là dietro sul cammino è un sole di legno che mi ha regalato una mia amica e uno specchio in mezzo è un sole delicatissimo basta toccarlo che saltano giù i raggi perché è vecchio ed è molto delicato quando è morta mia mamma lei è morta sei anni fa il 27 novembre io stavo avevo appena traslocato qua per me è stato un colpo durissimo ho fatto il Natale quel Natale lì non sono andata neanche da mio figlio non ce la facevo io continuavo a piangere non riuscivo a tirarmi su continuavo a piangere e continuavo a dire che volevo del tempo con lei volevo viverla un po' di più avevo tante cose da dirgli il 24 dicembre la vigilia di Natale ero sul divano che piangevo come era andata piangevo non ce la facevo più piangevo proprio tanto quel sole là che è distante dal divano mi è saltato davanti con lo specchio appoggiato per terra non si è spostato né un raggio non si è rotto lo specchio la corda era attaccata il chiodo era attaccato perciò ho detto va bene ho capito non piango più poi non dico che non piango più non piango più in quel modo lì cioè mi ha detto lascia stare sono qua possiamo vederci possiamo sentirci ci vogliamo bene non c'è più nessun problema perciò lascia andare non piangere hai fatto tutto quello che potevi e io ho fatto quello che potevo cioè alla fine le risposte arrivano anche in un modo così diretto così forte perché spostano di tutto continuano a nascondermi le sigarette perché si vede che forse è una che smetta di fumare mi nascondono le chiavi addirittura le chiavi della macchina mi fanno tutte queste cose molto vive molto materiali poi le trovo se vai nel posto dove le avevo lasciate a volte mi do la colpa perché sono incoglionita invece no non è così ti spostano proprio le cose ti fanno trovare pensate un'altra cosa che mi è successa un po' di tempo fa mi piacerebbe vedere qualche risposta a qualche domanda venisse di annoio ma non vedo niente vedo solo che così non riesco a leggere nessun commento e pensate anni fa io ho recuperato mia mamma il rapporto con mia mamma negli ultimi tempi quando si è ammalata noi non eravamo in buoni rapporti ma questo l'avevo scritto anche sul mio libro e praticamente ho recuperato il rapporto con lei proprio nel momento in cui si è ammalata andavo sempre giù stavamo insieme era venuta da me nel periodo del terremoto e un giorno non so cosa mi è saltato in testa e sono andata giù e piangevo e mi ho fatto una scenata alla mattina perché dicevo che io non avevo una foto con mio padre tutto io era partito perché mio zio da quando ero piccola mi diceva che mio papà quando lui era un finanziere quando aveva la casa in permesso era sempre attaccato a mia mamma e non mi voleva io lo so che mio padre mi ha sempre amato tantissimo e me l'ha dimostrato anche dopo che se n'è andato però probabilmente la mente di una bambina mantiene queste frasi queste cose e non so cosa mi era saltato cercavo sta foto con lui dicevo non ce l'ho perché non ho una foto con mio padre perché non ho una foto con mio padre sono andata a casa sua finale e ho fatto una scena non ho una foto con mio padre mio padre non mi voleva bene e non era che diceva scusi ma scherzo ho detto tuo padre con tutta l'anima tuo padre è Enrico mi è arrivata la notifica ma non vedo non vedo i commenti non vedo nessun commento e praticamente ho fatto questa scena da Matti e lei diceva figura se tuo padre non ti vuole ti adorava ti ha voluto perché ha proprio messo in cinta mia madre perché mi voleva niente questa foto non c'è ha detto però aveva talmente poco tempo quando tornava dal servizio che si vede che non c'è stato tempo ha detto non c'ho neanche pensato cioè non si ricordava neanche lei dopo cinque anni perché questa foto l'ho trovata l'anno scorso forse no l'ho trovata a marzo aprile praticamente apro la credenza della mia sala io le mie foto tutte le foto ce le ho in un cassetto in un mobile in basso in una scatola perciò le ho guardate e riguardate questa foto non l'ho mai vista in un giorno così che neanche ci pensavo apro la credenza non so cosa stavo cercando mi cade davanti una foto e c'è una foto con me mio padre mia madre mia nonna mia bisnonna io quella foto vi giuro io non l'avevo non l'ho mai vista anche mia madre non ce l'aveva perché le abbiamo cercate all'infinito io non so da dove è saltata fuori questa foto però l'ho trovata cioè per dirvi anche nel momento in cui non pensavo non so perché è saltata fuori in quel momento lì non ne ho idea ma grazie perché ho una foto insieme a mio padre poi per dirvi sono umana anch'io a volte ho le mie crisi non è che io sono diversa da voi sono uguale sono più serena sto meglio perché sono a contatto sempre ho capito tante cose me le hanno fatte capire nel tempo in tanti anni per forza qualcosa devo aver capito perciò mi danno la serenità che mi serve mi danno la verità io credo molto a quello che mi dicono loro qualsiasi cosa io me la tengo me la tengo perché so che mi aiutano che mi dicono sempre la verità su ogni cosa anche se a volte non è chiaro quello che dicono perché non possono parlare chiaramente come noi però dal momento in cui tu sai che qualcuno ti sta vicino che ti lascia dei segnali che ti accompagna non siamo mai soli non lo siamo mai di notte a volte perché dicono ma sai vengono di notte però fanno paura no arrivano di notte perché noi siamo più tranquilli durante il giorno abbiamo tante cose da pensare perciò la mente la nostra mente è come una saracinesca no è chiusa da tanti da tanti problemi da tante cose che che dobbiamo fare non ce l'abbiamo libera chiudiamo i canali dalle arrabbiature dai problemi dalle preoccupazioni se non stiamo bene perciò chiudiamo i canali che abbiamo non siamo liberi di notte dormendo o rilassandoci i canali sono più aperti e per quello che si sentono per chi non è abituato a sentirli li sente più di notte perché la nostra mente è più libera se noi riuscissimo a mantenere la mente vuota nonostante facciamo delle cose durante il giorno perché è normale che lavoriamo puliamo io ho tanti gatti cioè ne faccio tantissime le cose in un giorno però i canali aperti mi è arrivato il messaggio su whatsapp da Enrico però se ascolto il messaggio poi dopo non riesco più devo andare fuori dalla diretta perciò lo ascolterò dopo di conseguenza diventa tutto più semplice per noi loro cercano solo di darci un input per stare meglio lo scopo che hanno loro è questo proprio di darci un input per poter vivere meglio questa vita cioè godiamocela fino alla fine perché con più riusciamo a stare sereni con più riusciamo a fare del bene quante volte mi sento dire mi sento dire quello là è cattivo e felice non è vero non è vero ma la soddisfazione di poter dare una mano a qualcuno o di fare una buona azione di fare qualcosa quello ci fa star bene non è la cattiveria o la rabbia la rabbia ci ammassa perciò sta bene ed è felice chi fa il bene chi è buono scorri con il dito aspetta così no eh no no Enrico non mi dà niente aspetta così non mi dà assolutamente niente aspetta se scorro con il dito mi toglie perché mi dà solo la scritta Daniele Farroni sta guardando il video in diretta anche se scorro col dito non me li dà non so per quale motivo aspetta che leggo un attimo il messaggio di Enrico scorri con il dito da destra a sinistra per vedere i commenti eh non me li dà Enrico l'ho fatto l'ho fatto ma non me li dà non so per quale motivo non mi dà mi toglie la schermata di chi guarda di chi guarda ma non mi dà i commenti perciò non riesco a leggerli da destra a sinistra aspetta che provo da sinistra a destra non si muove da destra a sinistra non me li dà non lo so non so cosa dirti mi dà solo ciao Ga il mio amico Gaetano ciao San Felice un volontario eccezionale non me li dà Henry non so come non so come fare a vederli non me li dà non me li dà mi dà solo la schermata eh Maria Mastrorilli sta guardando il video in diretta invia un saluto tolgo questi non vedo assolutamente niente provo a toglierli ma non mi dà assolutamente i commenti non so per quale motivo non riesco a capire perché di solito li dà in ogni diretta io ho sempre visto tutti i commenti provo a studiare una cosa perché possa vedere i commenti te che sei bravo ma eh questo qui sono capace anch'io non so per quale motivo non mi dà i commenti niente vedo solo Cristiana Minutola fai partecipare niente no non li vedo non me li dà non me li dà adesso faccio la foto così ti faccio vedere dopo cosa mi fa vedere e basta se scorro il dito mi fa vedere così e basta poi ti mando le foto scurri verso no non si vedono no Enrico non si vedono non me li dà i commenti e niente vabbè andiamo avanti perciò stavo dicendo che anch'io sono una persona che ha i miei momenti e tutto perciò quando non mi ricordo più cosa stavo dicendo beh comunque andiamo avanti sempre tante cose da dire che praticamente ci danno proprio una mano un aiuto per poter dire siamo qua siamo vicini ci aiutano a vedere la vita in questo in un modo diverso io di prove ne ho avute veramente tante ma sento tante persone che hanno avuto delle prove vive reali precise ed è importante ed è importante che è importante ascoltarli è importante salutarli è importante comunicare con loro è importante vivere con loro cioè non se ne sono andati sono materiali sono vivi sono sempre con noi non ci lasciano pensate che quest'anno che persone che sono salvate con il covid non sono state salutate dei propri cari quanti hanno detto che hanno sentito o hanno detto anche delle cose proprio che hanno sentito che vi sono state dette che io non potevo saperlo sapevano loro sapevano che ha vissuto che dal momento in cui il corpo è ancora vivo e l'anima si sta staccando è si è anche interrotto il video vabbè è ripartito perciò stavo dicendo che quando l'anima si stacca dal corpo quando il corpo è ancora vivo e l'anima si sta staccando per prepararsi andare dall'altra parte sentono quello che diciamo perciò sono lì con noi anche il fatto dei sensi di colpa di dire ma non ero lì e non ero accanto non ho potuto stare con lui è un nostro problema siamo noi che abbiamo bisogno di comunicare con loro e di stargli vicino loro ci sentono perciò non sono soli non si sentono abbandonati da noi è importante saperlo questo perché ci toglie dei sensi di colpa noi viviamo continuamente dei sensi di colpa ci sono tantissime prove che poi hanno detto semmai al momento in cui se ne sono andati chi tentava di telefonare adesso non mi ricordo esattamente i particolari però nelle prove che si sa insomma abbiamo avuto conferma poi tramite questi messaggi perciò è importante stare sereni non è facile perché quando si perde qualcuno che amiamo intensamente la mancanza fisica la sentiamo ed è normale sentirla non sono cose straordinarie bisogna avere pazienza bisogna dare tempo al tempo di poter metabolizzare di poter accettare il dolore e la perdita di poter metabolizzare il lutto è importante avere pazienza ce ne vuole tanta perché siamo talmente materiali e terreni che non riusciamo a capire il vero distacco che non c'è alla fine non c'è anzi li abbiamo più forti una volta un po' di tempo fa ho scritto una cosa che per me era molto bella poi una mi ha offeso perché mi ha detto si la fa facile lei che vede che sente ma è una presa di giro per i genitori io ho detto semplicemente avevo detto che per superare il dolore accettarlo anche quando un genitore perde un figlio quando un figlio perde un genitore il pensiero di poter dire che sono comunque felici che non soffrono più anche quando qualcuno se ne va con delle malattie terribili perché ci sono dei tumori che fanno veramente soffrire le persone e ho scritto la cosa che ci può consolare è poter dire stanno bene ho la possibilità di sentirli devo solo imparare a sentirli e mi dà un po' di aiuto perché noi comunque quando vogliamo bene qualcuno siamo anche altruisti di conseguenza il pensiero di dire che sta bene che non ha più dolore che non soffre più dall'altra parte ci dà un minimo di tranquillità un po' di serenità questa mi ha scritto che lei la fa facile si imposta la fotografia della sua famiglia felice senza sapere quante persone ho perso io e la mia famiglia e a volte come sia cattivi probabilmente per un dolore che lei ha perché sfoga la rabbia su di me ma io non volevo offendere nessuno volevo semplicemente aiutare dire soffriamo sì per qualcuno che perdiamo però a volte ci consola proprio il fatto di dire loro sono felici io cercherò di superare questo dolore nel modo migliore possibile beh comunque i commenti non li vedo poi se vai andrò sulla sulla diretta e se ci sono dei commenti vi rispondo scrivendo perché non si vedono perciò perciò è importante la tranquillità e dobbiamo imparare a cercare di 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 sentirli il più possibile per portare serenità dirci che ci stanno vicini che sono con noi dobbiamo accontentarci perché non li possiamo più fare tornare davanti a noi non li possiamo più avere seduti qua sul divano fisicamente a dire mi fa male un ginocchio o voglio qualcosa da mangiare non lo possiamo più fare perché sono in un'altra dimensione ma è un mondo talmente bello talmente vicino a noi che è importante tenerseli così continuiamo a vivere con loro in un modo diverso sotto una forma diversa noi continueremo il nostro percorso cercando di stare più liberi dal dolore dalla rabbia da quello che ci ha comunque messo davanti la vita delle prove veramente dure delle prove che noi abbiamo scelto quando eravamo di là perché anche questo pensiero il fatto di dire che noi ci siamo messi a tavolino funziona così e ci mettiamo a tavolino prima di nascere e decidiamo con chi vivere il percorso che facciamo poi abbiamo un libero arbitrio ce l'abbiamo però se noi da un punto partiamo dobbiamo arrivare a un altro punto state sicuri che ci arriviamo non possiamo prolungare quella fermata dal treno che noi prendiamo nella vita noi prendiamo un treno poi abbiamo tante fermate possiamo cambiare fermate però il punto dove dobbiamo arrivare se dobbiamo arrivare a Roma non ci arriviamo e non possiamo spostarlo e ci mettiamo in accordo prima sembra impossibile perché dici come faccio a mettermi in accordo con mio figlio che lui se ne deve andare prima di me sembra una cosa fuori dal mondo in realtà è così anche perché di là non abbiamo il ragionamento che abbiamo sulla terra là si ragiona con l'anima si ragiona con l'amore e sappiamo benissimo che queste interruzioni di vita sono date dovute a delle prove che dobbiamo superare capisco benissimo perché io anche io ho fatto una fatica incredibile a dover accettare questa cosa diciamo sono proprio stupida in realtà non è così però pensando al ragionamento che hanno loro al modo in cui ragionano al modo in cui sentono capiamo sappiamo che è così cioè che non ci porta sofferenza dall'altra parte e che qui la prova che abbiamo la crescita l'insegnamento il diploma che dobbiamo prendere lo prendiamo da verso delle prove dure non attraverso una prova che ci fa sorridere una prova che ci porta felicità e serenità non funziona così poi a volte vi è stato chiesto ma perché deve essere così qual è lo scopo lo scopo è di evolverci abbiamo delle evoluzioni continue lo scopo è solo quello l'anima si evolve con delle prove dure da superare senza fare poi tocca a noi superarle con il sorriso tocca a noi superarle con serenità e con amore cioè non c'è niente da fare lo scopo è quello poi ci si arriva sempre tardi non ci si arriva mai a vent'anni ci si arriva sempre tardi però ci si arriva pian piano qua nel momento quando riusciamo a capire a a vedere le cose come vanno poi dopo riusciamo anche a inquadrarci in una in una retta via mi dispiace che non riesco a leggere i commenti ma poi capirò dopo non so per quale motivo non mi è mai successo e qua aspetta che qui mi arriva Susi ti mando aspettate un attimo ok ah li vedo adesso adesso li aspetta li vedo li vedo li vedo yahoo chi desidera avere un contatto con Susi scriva su messenger adesso vedo li vedo poi vado un po' giù un po' su però qualcosa vedo buonasera Susi mio papà è mancato pochi mesi fa grazie Beppe perché aspetta eh la facciamo così allora qui Laura grazie Beppe per il tuo aiuto vorrei solo essere utilizzata attraverso la metafonia e comunicare con lui quando mio papà si è andato quasi o meno ho fatto un sogno lunghissimo e ho potuto capire se e che ricordo ancora benissimo nel quale non ho potuto capire il significato se ne può avere Paolo ha un bacione ciao anche a te mio padre pensava che ha sofferto tanto 58 giorni nell'animazione sono stata fortunata perché ho avuto la possibilità di stare a cantonino e non è lasciata la sua morte mi ha dato tanto dolore al cuore e vorrei sapere se c'è un messaggio allora ce l'ho detto tante volte io non do messaggi in diretta non do messaggi a distanza non do messaggi in videochiamata l'ho detto all'inizio ho talmente ho tanto rispetto per questa cosa perciò non mi piace farlo in questo modo Roberta dice quindi il libero ambito cambia magari il modo in cui facciamo durante il nostro viaggio ma non la meta sì lo decidiamo noi Roberta decidiamo noi che strada prendere perché se io ho davanti due strade ho due lavori da scegliere uno mi dà i soldi l'altro mi dà la serenità cioè mi piace guadagno meno ma mi piace se io scelgo quello che mi dà i soldi avrò i soldi ma non sono serena perciò è meglio che scelga forse la ti faccio un esempio banale quello che mi piace di più che mi fa vivere visto che la maggior parte della giornata noi la passiamo al lavoro poi i soldi dopo arrivano Caterina dice buonasera io ho perso un figlio tre anni fa per malattia come dice lei di notte mi sveglio sulle tre quattro e sento dei rumori piacerebbe sapere se effettivamente è lui che mi vuole tesoro io questo non te lo so dire Caterina sicuramente sei tu che devi sentirlo io da lontano non posso dirti che lui che ti dà i segnali è una cosa molto personale capire chi è va bene sono le dieci e mezza ciao Angela Angela dice sono tutto di noi sono sempre con noi i messaggi di Susi ci danno conferma e ci aiutano a lavorare il lutto per me sono una grande consolazione ho perso una grande consolazione e una forza per andare avanti incontrare Susi è stato un dono con loro ci parlo sempre sono certa che sono a conferma Susi ti aspettiamo guarda io Angela imparo tantissimo da voi io imparo tantissimo dalle persone che incontro a cui do i messaggi perciò credo che ci sia un dare e un avere sempre comunque allora vi saluto perché ho fatto veramente tanta fatica a parlare ma è stato un piacere enorme spero di rivedervi presto di poter fare un'altra diretta con voi risponderò domani a tutte le i commenti che ho visto adesso li vedo ma domani poi vi rispondo o anche stasera se non so se riesco Susi ti mando un saluto da parte di Simona amore Simona ciao Peppe grazie salutami Simona e anche la sua Linda sono persone straordinarie ci penso sempre le saluto anche sempre su Facebook grazie Peppe salutami e risponderò domani poi se avete fatto delle domande adesso devo ancora mangiare mangio qualcosa poi vado a letto prendo un bel bicchierre di latte col miele così mi passa la tosse io vi ringrazio ringrazio Anna ringrazio Enrico vi abbraccio spero di non avervi annoiato perché a volte ripeto anche le stesse cose ma quello che mi viene in mente dico non programmo mai una diretta a parte qualche piccolo argomento devo anche scrivere il quarto libro e ve lo dico anche qua se c'è qualche mamma che ha ricevuto dei messaggi particolari e belli dal proprio figlio siccome questo libro tratta proprio di questo ci sarà una parte mia ma c'è ci sono voglio scrivere i messaggi che i ragazzi hanno dato ai genitori sono straordinari sono bellissimi questi messaggi perciò vi ringrazio domani poi vi rispondo così potete leggere datemi il tempo perché domani ho pieno di appuntamenti anche domani vi mando un bacio grande è stato un piacere stare con voi vi ringrazio di avermi ascoltato di aver perso un'ora con me notte notte a tutti un bacio infinito ciao grazie infinito benvenuto infinito ci sarà qualcuno che parla buonanotte grazie grazie mille grazie a tutti